Musica Let's go baby Sono in streaming, venite tutti a vedermi per questo streaming Friday Night Nerd Life Assieme, venite quindi su twitch.tv o slash powertv, facciamo qualcosa assieme, facciamo un po' di casino In questo periodo diciamo di pausa che c'è su Overwatch dalle ranked, quindi un periodo un pochino più lento Dove in questa settimana che non ci sono le partite classificate, mi rilasso, gioco con lo Smurf, pracco la mira con altri eroi Provo altre cose, venite qui, fate domande, chiedete, fate cose, ciao, bella, ci vediamo in streaming, let's go baby